Che la Roma si può permettere una sorta di amievole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra campale stasera, c'è una differenza fondamentale. Poi, se mi dici se è intelligente mettere i derby di due squadre che giocano in Europa, proprio la settimana che giocano in Europa, ti dico che non mi sembra il massimo dell'intelligenza da parte della Lega. Forse la Lega non si renda neanche conto se è un derby qui a Roma, non lo so. Mi sembra che sia gente strana al calcio, quindi si poteva fare sicuramente diversamente. Però te l'ho detto, favoriti perché giochiamo prima e abbiamo più riposo. Loro hanno una classifica e si possono permettere di tenere tutta la squadra fuori.